Lunedì anche a Teramo si torna regolarmente a scuola? Si torna a scuola sulla base dell'ordinanza del Ministero della Salute che ovviamente si basa su valutazioni sanitarie certe, attendibili, certificate da parte delle autorità sanitarie competenti, dell'organo sanitario a cui spetta per legge valutare la lettura dei dati del nostro territorio e quindi certificare la sua situazione sanitaria. Oggi intanto l'Abruzzo è in zona rossa? L'Abruzzo è tornato in zona rossa di fatto a seguito dell'ordinanza del Presidente Marsiglio che è stata sospesa dal Tar. Insomma è una giornata particolare perché di fatto dovrebbe essere solo esclusivamente per un giorno questo regime. In realtà siamo stati per cinque giorni in una situazione non conforme a quella che è la nostra situazione sanitaria. Questo è il dato di fatto e speriamo assolutamente che questo stato di incertezza non determini un rallentamento per il passaggio che tutti ospichiamo possa avvenire a breve in zona gialla così come tante regioni stanno facendo. C'è questo rischio per l'Abruzzo? Sicuramente la conflittualità di questa settimana che ha ritardato una serie di passaggi e creato incertezza sicuramente non aiuta, anzi rallenta i tempi e ci porta in una situazione di incertezza su questa situazione. Ecco perché l'invito nei confronti di tutte le istituzioni con grande serenità, senza conflittualità, ad evitare lo scontro istituzionale, a sedersi intorno a un tavolo, cercare di definire tutte le criticità che ci sono state perché in questo momento la conflittualità che si è messa in campo purtroppo si è riverberata negativamente sulla vita della comunità, dei cittadini e questo non possiamo permettercelo. Ecco perché responsabilmente noi qualche giorno fa con l'ordinanza emanata martedì abbiamo tirato fuori il mondo della scuola da questo stato di incertezza. Oggi le seconde e terze medie in tutto l'Abruzzo dovrebbero restare chiuse. Noi abbiamo fatto questa scelta qualche giorno fa proprio per tirare fuori il mondo scolastico da questo conflitto e oggi penso che tutti i dirigenti scolastici ovviamente riconoscano questa cosa e anche perché abbiamo sicuramente chiarito, abbiamo lanciato un messaggio che è questo, cioè evitiamo di scaricare responsabilità poi dall'uno all'altro soggetto istituzionale. È il momento in cui dobbiamo essere tutti responsabili, facciamolo, facciamolo assolutamente superando i conflitti, non è questo il momento, noi sindaci ci mettiamo ovviamente a disposizione come sempre abbiamo fatto.